Premiazione 100 stile libero ragazzi nati 2003 medaglia di bronzo per Alessio Sartoretto Idros 54 e 22 anche argento per la Idros con Riccardo Pandin 52 e 69 e medaglia d'oro Simone Cerasuolo Imola Nuoto 51 e 32 Quarta serie 100 per falla ragazza la partenza in corsia 1 Alice Marchio alla 2 Carola Restelli alla 3 Alice Capannini alla 4 Federica Previtaglio alla 5 Noemi Capri alla 6 Linda Lorenzi alla 7 Giorgia Francesca Stranieri Nei 100 per falla record della manifestazione per il primo anno Camilla Tinelli 1 6 e 26 e ragazze secondo anno Anna Pirovano 1 4 e 71 Che la Belgetti 1 14 86 giudica la quinta serie alla partenza la quarta serie 100 per falla ragazza Grazie a tutti